In questo libro del 2010 si intitola Cose non impossibili. In fondo, che cos'è che ci vuole perché ci sia della bellezza in giro nella città? Mica grandi cose. Un prato verde fra una casa e il serciato con qualche fiore semplice. Magari una fontanella, un disegno di piastrelline, le rotaie del tuam che lucidano, un albero tra viale e contro viale, due ragazze che ballano per gioco, un poco, lì davanti a una scuola, una facciata con vasi di avanzali intonacata di un colore gentile, una mamma con due bambini per mano, un insegno non troppo invadente di un bar con un uomo che prende un caffè, una musica da una finestra aperta, una risata di qualcuno che sbuca da un angolo, un banchetto di frutta e verdura, i panni spesi sul filo, le tenaci erbacce nelle crepe del cemento, il cielo azzurro o grigio è un po' di vento che muove le foglie e fa volare un sacchetto di carta di un negozio, qualche scritta simpatica sui muri e altre cose così, non impossibili. Grazie Carlo.